In tutti gli store digitali uscito il nuovo singolo di Lidia Schillaci, dal titolo Noi non siamo capaci, pubblicato proprio nei giorni che ricordano la strage e che anticipano la ricorrenza dedicata al giudice Paolo Borsellino. Noi non siamo capaci, che è il pezzo che esce ovviamente in tutti gli store digitali, voglio proprio dire che fare il proprio dovere è una cosa importante. Vediamo i medici in prima linea, gli infermieri in questo momento, che facendo il loro dovere hanno anche perso la vita in questo periodo di Covid-19. Io voglio essere qui presente e lanciare questo appello di partenza, ripartenza con la musica. Noi non siamo capaci, no, noi non siamo capaci, no, noi non siamo capaci. Tutti davanti alle televisioni, divise uomini con dei valori e pagano il prezzo del proprio dovere in quella nottata di vecchio economia. Noi non siamo capaci, no, noi non siamo capaci, no, noi non siamo capaci, no, Noi non siamo capaci Apri la finestra, è un nuovo modo di vedere le cose Che il mondo cambia in fretta E la giustizia la dà solo l'amore E la giustizia la dà solo l'amore E la giustizia la dà solo l'amore L'amore, l'amore No, noi non siamo capaci, no 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 Oh, 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 è la giustizia da solo l'amore Noi non siamo capaci, no Perché siamo capaci, oh